Ciao a tutti, popolo del tubo, ed eccoci in un nuovo test mod, un test mod per console e per PC. Parliamo del bellissimo Deutz Far Agrolux 310, un trattolino da frutteto, da vigneto, ma anche da piccoli lavoretti in farm. Un trattolino piccolino, per chi come me è amante di questo genere di trattori, è veramente una chicchetta da scaricare e da non perdere. Prima di cominciare a vedere un po' nello specifico questo trattolino, vi ricordo che in descrizione c'è l'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, se avete Amazon Prime, potete sostenermi gratis con un abbonamento. Poi ci sono tutti i miei social e c'è il tasto super grazie per offrirmi un caffettino. Nella giornata di ieri mi ha offerto il suo caffettino Roluc, io lo ringrazio e gli dedico il video odierno. Ma dove si trova questo trattolino? Dove si trova? Si trova ovviamente in trattori piccoli. Eccolo qui, Agrolux. Si parte da 27.500 euro. La versione base è questa, da 62 cavalli. Ma possiamo iniziare a vedere le configurazioni. Iniziamo con il peso. Si può mettere la configurazione standard e si può mettere invece il peso fino a 360 chili. Eccolo qua. Poi abbiamo le varie marche gomme con le varie configurazioni ruote. Addirittura possiamo mettere le doppie ruote, sia posteriori che anteriori, al nostro trattorozzo. E poi abbiamo la possibilità di mettere la cabina o no. Io, ragazzi, sinceramente non lo voglio con la cabina. A me piace senza cabinetta. Poi possiamo scegliere lo scarico. Se lo vogliamo basso o alto. Vedete? Basso o alto. Tutte cose visive. Non cambia niente ai fini del gioco. L'unica cosa che cambia ai fini del gioco è la potenza del motore. Appunto, partiamo dai 62 cavalli dell'Agrolux 310 di default, diciamo, del modello base. Ma lo possiamo pompare fino a 72 cavalli con il modello 320. E poi vedete che cambia pure la texture. Infine, possiamo scegliere il colore principale, il verde deutz, il verde deutz più chiaro, il nero deutz e il grigio deutz, che è qualcosa di meraviglioso. Il suo trattore così è meraviglioso. Inoltre, abbiamo anche la possibilità di scegliere i cerchioni. Grigio, rosso, rosso chiaro e nero. Ovviamente i cerchioni si adattano alla colorazione che voi sceglierete. E adesso è arrivato il momento di sentire il motore fare un giletto. Ecco, fatto. Vi voglio far vedere anche il cruscottino, le levette che si muovono, vedete? E beh, tutto animato, tutto spettacolare. Guardate le levettine. Fatto veramente bene, ragazzi, eh. C'ha anche il suo bellissimo lampeggiante. Fighissimo. Questo per i vostri vigneti, oliveti, o per gestire gli animali, insomma, è l'ideale. No, ma guardate il dirt com'è messo. Il dirt è uno spettacolo. È messo nei punti giusti. Che zozzeria, guardate che zozzeria, raga. Anche sul... sul vetro davanti del cruscotto addirittura. Bellissimo. E beh, a zozzoni. E lavate sto trattore. L'usura invece non mi piace. Questa è l'usura al 100% e non si vede nemmeno. Cioè, c'è giusto una scrostatina a qualcofano, guardate. Una scrostatina lì, ma l'usura non c'era, gà. L'usura visiva deve essere messa per far capire al giocatore che il trattore ha bisogno di manutenzione, ma a meno che non ci cade l'occhio qua sul sollevatore dietro, è molto difficile capire che il nostro trattore ha bisogno di... della verniciata, insomma. L'usura no, non mi piace, bocciata. Ma è arrivato il momento di vedere l'illuminazione di questo trattore. Quindi prima vediamo il cruscottino che si illumina tutto con gli anabaglianti. Poi abbiamo le luci posteriori, che praticamente non so luci, sono un lampadario, guardate che luce che fanno. E poi abbiamo le luci aggiuntive davanti, vi faccio vedere tutto quanto anche da esterno, luci normali, luci posteriori e luci davanti, tanta roba. E niente ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioiellino. Se vi piace, se non vi piace, se lo scaricherete o meno, commentate, commentate, lasciate un bel like al video, mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti per rimanere sempre aggiornati sul mondo di Farming e Simulator e non solo. Io, amici, ringrazio gli abbonati, anima, vita e cuore di questo canale, che ho sentito un canale di sostenere e andare avanti per portare tutti questi contenuti. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!